Sono Valentina Piccinini, nella vita mi occupo di formazione in ambito sanitario, radiologico. Di questo evento l'ho saputo partecipare da un paese che frequento e partecipo al percorso intensivo di Patrizia e quindi era inevitabile decidere di partecipare. Ho deciso di partecipare perché non è la prima volta che ho la possibilità e l'opportunità di fare un corso dal vivo con Patrizia ma a differenza delle altre volte, le altre volte sono sempre scappata, quindi all'ultimo ho sempre scelto di no e invece finalmente ho scelto la risposta giusta, quindi ho scelto che è sì. Quindi eccomi qua. Di me che cosa è cambiato? Verosimente la domanda giusta è che cosa non è cambiata perché sarebbe un po' più rapida la risposta. Di me è cambiata senza dubbio la... Ho lasciato andare le mie paure più grandi, la mia paura più grande, quindi quello che è cambiato è sicuramente un'apertura a tutto ciò che c'è di bello e a tutto ciò che c'è e ci sarà di nuovo. Sono cambiate le emozioni, il valore delle emozioni è la capacità di viversele appieno. Cosa mi porta a casa da questi giorni e la consapevolezza che in realtà è tutto molto più semplice di quanto in realtà ci si voglia costruire. Ho imparato che se parli col cuore non puoi che ricevere accoglienza e non puoi che essere sulla strada giusta. Ho imparato che la sicurezza è sicurezza, che la sicurezza a volte inganna perché ti toglie quello che è lo spettacolo di tutto ciò che è fuori che ti aspetta, che anche se non lo conosci in realtà è lì proprio per essere scoperto. Quello che ho scoperto lo apprezzerò nella mia vita in ogni piccolo passo smettendo sicuramente di pensare super in grande, di pensare subito agli grandi ma applicandolo un piccolo passo alla volta nelle piccole cose quotidiane, dal rapporto con la mia famiglia, dal rapporto con i familiari, dal rapporto con l'impegno nel percorso che sto facendo e nelle cose che voglio cambiare. Tutto questo in che modo può trasformare la mia vita? Sicuramente la prima parola che mi viene è leggerezza, quindi sicuramente la trasformo in una vita più leggera, in esperienze che mi rispecchiano di più, che parlano di me e che raccontano di me e nelle quali io riesco e posso imparare a chi sono veramente e cosa voglio essere, cosa voglio fare con le persone che mi stanno accanto. Cosa non sarà mai più come prima? Prima di tutto i rapporti, quindi le persone care, i rapporti con le persone care, che ho imprimito la mia famiglia, che forse a volte ho sempre visto come un limite, ma in realtà qui ho scoperto che sono la spinta più grande. Non sarà mai come prima la paura? La paura oggi è diventata la mia nuova bussola, non qualcosa da qui scappare, ma qualcosa che mi fa capire effettivamente qual è la strada giusta, perché qual è la strada che mi fa vibrare. Una parola singola per sensibilizzare questo evento, una sola, prezioso, impagabile. Ciao pattina, volevo dirti grazie dal profondo del cuore, perché mi sono scappata tante volte, ma tu ci sei sempre stata, nonostante comunque, e sei lì, ad aprire le porte e a dare la spinta giusta. Quindi grazie. Ok, grazie.